Il comune di Roseto rischia un isolamento rispetto all'unione dei comuni dell'ambito sociale a lanciare l'allarme il consigliere comunale di Casa Civica Mario Nugnes che conosce i vari aspetti di un settore delicato qual è quello delle politiche sociali. Nei giorni scorsi nella sede del municipio di Giulianova vertice tra i sei comuni aderenti all'ambito la situazione che è emersa preoccupa Nugnes. Si è ravvisato un isolamento di fondo del nostro comune che noi consiglieri di opposizione cerchiamo di far emergere da mesi per non dire da anni e il risultato è la stagnazione, un po' la lentezza amministrativa che quest'unione dei comuni e i comuni che ne fanno parte purtroppo arrecano a coloro che fanno invece i soggetti, cioè le cooperative e le associazioni che operano nel sociale. All'ambito sociale è stato chiesto tuttavia di accelerare le procedure relative al sostegno economico da garantire alle cooperative che svolgono servizi a vantaggio delle fasce più deboli, superando quindi ritardi cronici nei pagamenti delle fatture. Qualcosa si è mosso perché quantomeno gli impegni assunti sino al 31 marzo sono stati liquidati, ma non basta per risolvere tutte le questioni. Abbiamo fatto capire che saremo col fiero sul collo per quanto riguarda il personale, per quanto riguarda risorse umane, che i comuni devono per convenzione far pervenire presso l'unione perché la macchina amministrativa cammini in una certa velocità. Roseto ha chiesto di uscire dall'unione dei comuni, almeno per quanto riguarda la gestione finanziaria, per assicurare alle cooperative il dovuto nei tempi previsti, superando quindi le lungaggini burocratiche. Bisogna però superare la situazione di stallo che purtroppo per certi aspetti permane ancora. Abbiamo consigliato, sempre in una sorta di opposizione ma costruttiva, quella di rimanere all'interno dell'unione, anzi non solo in convenzione, ma di rientrare per poter battersi all'interno, essendo il primo comune di questi sei comuni per numero di abitanti e poi dall'interno riuscire a far valere le nostre ragioni. Questo poteva essere fatto sin dall'inizio, non è stato fatto, ma nulla è perduto. Bisogna insistere perché in questi casi le battaglie politiche tra partiti di comuni diversi penso che non portino a niente se non all'isolamento come appunto è avvenuto.